Noo! Che vado qui? Sì, si… Il fiscale è, no? Ah… Ma non si mette lì? Si, no Oh, ho… Ma non ti mette lì, sara no? Ma non ti mette lì, sara no? Ma non ti mette lì, sara no? Ma non ti mette lì. Ma non ti mette lì, lì? non si, il tuo passaggio semmo, non si, ma non mi ha mai fatto ma guarda, sono ancora da la squadra vanno ora, vanno in questo pollo avanti, vanno andando no, vanno a dire il mio topico avanti si è un velo suure molte va bene, mi sono suuri Ci sono un'esplosione molto, ma la risposta è un'esplosione. Ci sono minori, questi sono dei esplositi. Se stessi un'esplosione. Ci sono un'esplosione molto così, ma non c'è un'esplosione. Ahahah Ma non si fanno ci sceglione Ma non si fanno Ma non si fanno Ma non si fanno mi fanno